Un quadro invece dell'arte russa ci è offerto dalla mostra di pittura Russia Sovietica inaugurata da Nikita Khrushchev. Hanno partecipato 2500 pittori. Le opere esposte rappresentavano con proletario realismo i momenti salienti della vita dei più grandi personaggi del comunismo, da Marx a Engels, da Lenin a Massimo Gorky. Stranamente non esistevano quadri di Stalin, forse perché Stalin è stato radiato dai quadri.